Ponte ciclopedonale sul foglia in inverno via ai cantieri vecchio palace dopo le multe si passa la messa in sicurezza nelle scuole di monte calvo inaugurati i primi impianti di ventilazione anti covid rispetto dell'ambiente marche multiservizi lancia una nuova app buona serata benvenuti buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì 28 ottobre questa sera apriamo parlando di lavori pubblici a pesaro una delle opere più imponenti che saranno realizzate infatti nel 2022 è il ponte ciclopedonale sul foglia una struttura chiaramente destinata a cambiare la mobilità cittadina e andiamo allora a approfondire tutto in questo primo servizio sarà una delle grandi opere infrastrutturali del 2022 destinata a modificare sia il profilo della città di pesaro sia le abitudini della sua mobilità parliamo del prossimo ponte ciclopedonale sul fiume foglia oggi ci troviamo sulla parte terminale di via dell'acquedotto all'ingresso del parco 25 aprile dove a breve sorgerà appunto l'area cantiere destinata alla realizzazione di questa grande opera infrastrutturale per un lavoro che durerà almeno 18 mesi parliamo infatti di un ponte dedicato a pedoni e ciclisti destinato a unire questa parte della città quella relativa appunto a via dell'acquedotto e anche all'area Miralfiore fino alla parte opposta al fiume foglia quella relativa appunto grosso modo alle quartiere Tombaccia il primo stralcio dell'opera già appaltato è impredicato di partire fra dicembre e gennaio con l'obiettivo di realizzare inizialmente un percorso ciclopedonale che da questa zona si avvicini all'argine del fiume dopodiché la posa del ponte sul fiume verrà effettuata la prossima estate in ottemperanza alle prescrizioni dei lavori legati al livello delle acque e al rischio di esondazioni più plausibili nei mesi più rigidi un investimento da 11 milioni di euro complessivi finanziati dal bando periferie per continuare a ravvivare questa zona della città che era molto trascurata qualche anno fa e che negli anni si è arricchita di diverse attrattive parliamo ad esempio del teatro della piccola ribalta, del nuovo bocciodromo così come dell'area dedicata allo skateboard e alle biciclette con la zona pump track non solo, il ponte costituirà anche un'altra attacca alla vocazione di Pesaro, città della bicicletta con la bicipolitana che già corre lungo gli argini del fiume ma ora di fatto il fiume andrà proprio a guadarlo correndo parallela parzialmente al ponte ferroviario e unendo la zona appunto di via dell'Acquedotto e area Miralfiore a questa parte della città, l'area della Tombaccia un'unione tutta ciclopedonale evitando percorsi inevitabilmente più pericolosi per pedoni e ciclisti come il ponte su via Ponchielli o quello su Porta Rimini Da una settimana è fermo il cantiere del vecchio Palasport di Viale dei Partigiani sul quale dovrà sorgere, come ormai ben sapete, il nuovo Auditorium Palace Cavolini a bloccare il tutto diverse problematiche di sicurezza sul lavoro costate anche molte salate al momento i lavori sono fermi ma l'impresa si sta mobilitando per tornare ad operare in sicurezza Si conclude la prima settimana di immobilismo sull'evoluzione del cantiere del vecchio Palasport di Viale dei Partigiani futuro Auditorium Palace Cavolini Venerdì scorso la verifica di carabinieri e ispettorato del lavoro ha rilevato gravi irregolarità in merito alla sicurezza dei ponteggi e all'inosservanza delle misure anti-Covid un controllo che costato tre denunce e un'ammenda di 70.000 euro forti le critiche da parte di Fratelli d'Italia verso una amministrazione comunale rea a loro dire di mancati controlli una settimana dopo il comune che la stazione appaltante difende piuttosto la serietà dell'impresa di costruzioni che si sta attivando in vista del prossimo controllo che presumibilmente darà l'ok alla ripartenza del cantiere Devo dire che quel cantiere aveva già avuto altre verifiche ed erano andate bene ovviamente può succedere un piccolo inciampo a chi lavora c'è stato un controllo dei carabinieri e del ispettorato del lavoro che ringraziamo perché è un momento dove ci sono decine e decine di cantieri in città e la vita umana vale più di tante altre cose quindi è giusto che ci siano questi controlli e ringraziamo chi li fa rispetto al cantiere del Palazzo dello Sport è un cantiere difficile la ditta si è dimostrata seria ovviamente può succedere un inciampo loro si stanno attivando per ripristinare le condizioni di sicurezza quelle che gli sono state rilevate nel controllo contiamo che nel giro di qualche giorno riusciranno a terminare i lavori poi ritornerà di nuovo il controllo per ridare il via ai lavori veri e propri fra le nuove opere cittadine quella che sta maggiormente catalizzando l'attenzione è però l'individuazione del nuovo ospedale di Pesaro una partita aperta fra muraglia e case bruciate con dieci giorni per fare tutte le valutazioni fra costi, ostacoli di costruzione, viabilità e impatto ambientale ad esprimere una decisione sarà una squadra di tecnici appena definita per il comune di Pesaro saranno il dirigente del servizio urbanistica Mauro Moretti l'ex capo di gabinetto del sindaco Ricci Franco Arceci e l'architetto Maurizio Severini responsabile del servizio opere pubbliche i componenti in quota alla regione saranno invece Nardo Goffi, Filippo Masera e Mario Becchetti la scorsa settimana Rossini TV si è occupata spesso anche su vostra sollecitazione della soppressione ma anche riduzione di diverse corse di Adria Bus sul territorio cancellazioni causate dalle defezioni nel personale di Adria Bus che ha dovuto contare oltre 40 autisti avversi a munirsi di Green Pass nella prima settimana di entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde la stessa Adria Bus comunica ora che tutte le linee dovrebbero tornare a regime nel giro di un paio di giorni grazie a 6 nuove assunzioni operate dall'azienda e a oltre 20 autisti che si sono messi in regola con il Green Pass Ed ora lo spazio dedicato agli aggiornamenti da Covid-19 sulla nostra regione sono 91 i nuovi casi di Covid nelle Marche di cui 10 nella provincia di Pesaro Urbino cifre che attestano al 7,8% la percentuale di tamponi positivi in regione regione dove crescono di due unità i ricoveri rispetto a ieri 61 i pazienti in degenza nelle Marche di cui 17 in terapia intensiva Oggi si è registrato un decesso si tratta di una donna di 85 anni della provincia di Macerata Ed ora ci spostiamo all'istituto comprensivo Anna Frank di Monte Calvo in Foglia dove la regione Marche ha oggi inaugurato l'installazione dei primi impianti di ventilazione meccanica anti-Covid finanziati dalla stessa amministrazione Questo istituto ha installato apparecchi di ventilazione meccanica controllata in grado di abbattere fino al 99% la presenza di virus e di agenti inquinanti nelle aule se ben utilizzati Questo abbiamo fatto nel comune di Monte Calvo in Foglia così come abbiamo fatto in tanti altri comuni marchigiani senza distinzione tra piccoli e grandi comuni tra comuni della costa e comuni dell'entroterra La regione davvero vuole essere vicino agli insegnanti e dirigenti scolastici e alle famiglie La regione ha voluto costruire un bando che garantisse anche i più piccoli comuni sotto i 10 e i 5 mila abitanti Così è stato a Monte Calvo in Foglia è stato a Sasso Corvaro e anche a tanti altri comuni della provincia di Pesaro Urbino e delle altre quattro province marchigiane Ci aiuta a condurre delle lezioni sicuramente in modo più confortevole L'anno scorso sono state eseguite le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico fra le quali anche la reazione costante dei locali e quindi delle strutture scolastiche Chiaramente lo abbiamo fatto con l'apertura delle finestre L'installazione di questi impianti di ventilazione permette di svolgere le lezioni sicuramente con maggiore benessere ma anche con maggiore sicurezza chiaramente Questo bando che ha emesso la Regione Marche è stata un'opportunità molto importante per l'amministrazione comunale perché come sappiamo le amministrazioni comunali la mia come tutte le altre puntano sempre al benessere dei nostri ragazzi e in questo periodo di Covid avere la possibilità di un riciclo costante della reazione delle aule è una cosa importantissima Il finanziamento che abbiamo ottenuto ammonta 92 mila euro e ha permesso l'installazione di 5 macchine di impianto di ventilazione nella scuola primaria di Borgo Massano mettendo così in condizioni favorevoli le lezioni di 80 bambini e l'installazione di altre 18 macchine nella sede centrale Calanciarino sempre di Monte Calvo in Poglia che permette una reazione di 18 aule appunto favorendo la giornata di 330 alunni Marche Multiservizi ha presentato oggi il Rifiutologo una nuova app che consentirà agli utenti di migliorare la qualità della raccolta differenziata e inviare comportamenti scorretti su abbandono di rifiuti e mancato rispetto dell'ambiente direttamente all'azienda Il corretto smaltimento di rifiuti fa un salto di qualità tecnologico e con esso si trascina un più incisivo monitoraggio delle trasgressioni con rapidità di intervento Tante funzioni a portata di smartphone quelle che Marche Multiservizi ha varato oggi attraverso il Rifiutologo una app che consente un nuovo dialogo interattivo fra l'azienda e la cittadinanza Un modo semplice per risolvere ogni dubbio circa lo smaltimento di rifiuti semplici, particolari ingombranti o pericolosi nonché un modo ulteriore di rendere la cittadinanza la sentinella del decoro del territorio inviando segnalazioni di abbandono scriteriato Marche Multiservizi presenta oggi il Rifiutologo l'app utile per segnalazioni ambientali spieghiamo in che senso questo strumento aiuterà sia Marche Multiservizi che la cittadinanza Soprattutto deve essere uno strumento di supporto oltre a quelli che abbiamo già di tipo cartaceo in forma digitale che deve aiutare il cittadino e sensibilizzare sempre di più quello che è l'attenzione alla raccolta differenziata e quindi un'applicazione che ci porta direttamente a conferire nel miglior modo possibile il rifiuto oltre a questo è un modo di interagire direttamente con il cittadino attraverso una tipologia digitale e quindi entrare sempre di più su alcune dinamiche come quella di alcune segnalazioni rispetto a degli abbandoni del rifiuto ad isole ecologiche che magari non sono gestite correttamente proprio per questa interazione questo collegamento che l'azienda vuole avere con il territorio con le amministrazioni comunali con i cittadini L'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tibiroli ha ricordato in conferenza stampa come dal suo insediamento in azienda la raccolta differenziata sul territorio sia passata dal 23 al 72% una crescita costante e graduale negli anni frutto di investimenti sul personale sull'impiantistica ma anche sulla cultura del riciclo una cultura che dall'app spazierà anche all'aspetto ludico come testimonia la novità degli Eco Games Eco Games è una cosa molto simpatica soprattutto per i giovani ma non solo per i giovani che serve ad fare in modo che le informazioni la conoscenza del rifiuto non sia solo un fatto impegnativo ma sia anche divertente quindi è un gioco e attraverso questo gioco che ovviamente vale su tutto il nostro territorio ci si può informare ma si può anche giocare e divertirsi quindi l'invito è di utilizzarlo al massimo perché comunque anche questo crea cultura sul tema dei rifiuti e soprattutto sul miglioramento della qualità della raccolta differenziata lo ribadisco ancora perché la qualità è poi l'elemento importante sulla fase successiva che è quella del recupero una buona qualità ovviamente ci consente di recuperare sempre di più il materiale rigenerarlo e metterlo a disposizione dell'ambiente senza utilizzare materie prime e vergini e dunque la nuova applicazione di Marche Multiservizi oltre a contribuire a una corretta raccolta differenziata limiterà anche l'abbandono scriteriato dei rifiuti un malcostume che Rossini di Fu continua a mostrarvi ogni settimana e questa sera non fa eccezione il video che vi mostriamo rappresenta infatti un'improvvisata di scarica a cielo aperto sulla quale si è imbattuta una nostra telespettatrice durante una passeggiata autunnale sulla spiaggia di Pesaro come potete vedere ci sono rifiuti di ogni genere immotivamente accatastati sulla sabbia un'altra segnalazione invece riguarda un abbandono di rifiuti che continua a ripetersi nello stesso punto del centro storico ovvero in via Petrucci a pochi passi dalla chiesa nel nome di Dio il 31 ottobre compirà quattro anni la proclamazione di Pesaro a città creativa unesco della musica in omaggio a questa ricorrenza l'associazione orchestra da camera di Pesaro propone sabato 30 ottobre alle ore 18.30 in piazza del popolo un concerto gratuito protagonista dell'evento la banda musicale di Rocca Malatina in provincia di Modena vincitrice dello scorso maggio del premio school prize del concorso musicale città di Pesaro 2021 ultimi due spettacoli in concorso alla 74esima edizione del festival di arte drammatica GAD in programma al teatro sperimentale domani venerdì alle ore 21 sarà in scena la compagnia liberamente di Monza con il testo di Dacia Amaraini stravaganza alla stessa ora di sabato salirà sul palco dello sperimentale l'associazione culturale teatro dei Dioscuri di Campagna in provincia di Salerno con lo spettacolo Kraken favola alla deriva il festival si concluderà domenica 31 ottobre con la consueta cerimonia di premiazione al teatro sperimentale a partire dalle ore 10 continuiamo con le segnalazioni in questo caso di diverso genere quella che vi abbiamo mostrato due sere fa attraverso la testimonianza di Giorgia una ragazza di Gallo di Petriano diversamente abile che ha denunciato proprio alle nostre telecamere e la ringraziamo tantissimo le difficoltà di chi si trova nella sua condizione nell'acquistare biglietti adatti alle sue esigenze nei luoghi di spettacolo come ad esempio cinema teatri o sale concerto a tal proposito quindi abbiamo intervistato Gilberto Santini che è il direttore della rete teatrale marchigiana Amat per comprendere come si può migliorare questa criticità per i cittadini diversamente abili non esiste solo l'annoso problema delle barriere architettoniche talvolta esiste anche una criticità di barriere tecnologiche soprattutto per accedere a eventi e spettacoli nei luoghi di cultura questo è quanto ci ha evidenziato Giorgia Righi ragazza di Gallo di Petriano che con una segnalazione a Rossini TV nei giorni scorsi ha portato all'attenzione le difficoltà di accesso a un ticketing che spesso fatica ad adeguarsi alle esigenze dei portatori di handicap trovare biglietti per una persona con disabilità è sempre un'impresa non è mai indicato un contatto diretto al cui rivolgersi a volte se ne occupa l'organizzatore principale piuttosto che terzi i teatri o i diretti palazzetti si perdono mesi per cercare di trovare la persona che se ne occupa e poi magari i biglietti sono terminati Giorgia ha anche lanciato la proposta alle agenzie di vendita di ritagliare una sezione specifica in cui allegare certificati di invalidità alla richiesta di biglietti criticità e proposte sulle quali abbiamo interpellato Gilberto Santini direttore dell'Amat Marche per capire se nella rete teatrale si recepiscono questi ostacoli quanto si sta facendo in tal senso e quanto ancora si può migliorare innanzitutto vorrei ringraziare moltissimo questa giovane amante del teatro perché insomma ricevere questo tipo di segnalazioni è sempre uno sprone per tutti noi per fare ancora di più e meglio perché insomma il tema dell'accessibilità agli eventi di spettacolo è un tema che ci sta molto caro perché insomma con gli artisti con le maestranze tecniche insomma siamo lì a preparare lo spettacolo ma poi abbiamo bisogno del pubblico e di tutto il pubblico perché ci teniamo che tutto il pubblico e nessuno si è messo mai in condizioni di svantaggio su questo c'è ancora molto da fare secondo me noi come Amat abbiamo diciamo insomma da sempre tutta la legione e lo ridico anche adesso in caso di difficoltà appunto con le varie biglietterie elettroniche o comunque per segnalare delle peculiarità di fare riferimento a noi come ufficio centrale sia via telefono sia via mail insomma sono facilmente reperibili online al sito amatmarche.net perché preferiamo sempre appunto curare curare personalmente l'accoglienza delle persone portatori di handicap quindi riferimento sicuramente centralizzato è per noi per tutti gli eventi che poi Amat organizza con tanti comuni e città delle marche sicuramente però ho visto con grande interesse la segnalazione della nostra giovane amica perché potrebbe essere invece un'idea interessante quindi colgo questa occasione per sviluppare ancora di più e quindi trovare anche delle formule di dialogo appunto attraverso sito con una segnalazione ancora più immediata che ci possa far essere ancora più efficaci in questo senso quindi davvero grazie perché è un'occasione per procedere in questa strada che ci interessa appunto su cui ci interessa essere sempre più precisi e perfetti Concludiamo con lo sport ieri sera in diretta su Rossini TV avete potuto seguire il debutto in Champions League dell'Ital Service all'RDS Stadium di Rimini debutto sfortunato con la squadra di coach Colini che nonostante la doppietta ditta borda è stata sconfitta di misura 3 a 2 dai russi di Tumen questa sera alle 20.30 sempre a Rimini il secondo match con i cechi di Polsen per un girone di Champions League che si concluderà sabato alle ore 18 con l'Ital Service opposta ai kazaki del Kairat Almaty e allora in bocca al lupo l'Ital Service Calcio A5 ma adesso andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV infatti tra pochissimo dopo questa prima edizione del nostro telegiornale alle 20.15 andrà in onda l'inaugurazione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna un evento che potete vivere fino al 14 novembre quindi se ci volete andare questa sera vi diamo un'anticipazione di quello che sarà il programma nelle prossime giornate e poi attenzione come tutti i giovedì e così lo sarà per tante puntate torna una nuova puntata di Insieme a Canestro alle 21.20 saremo in diretta sia tv che facebook e mi raccomando potete scriverci al nostro numero di whatsapp 370-366-7210 scrivendoci potrete vincere dei premi messi in palio proprio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro gli ospiti di questa sera sono Simone Zanotti che è l'ala della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Roberto Tomassoli che è un tifoso della VL e poi vi ricordo la rassegna stampa come sempre da lunedì al sabato il nostro Buongiorno Rossini vi diamo il buongiorno tutte le mattine in diretta alle 7.20 e domani torna il Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine una nuova puntata il nostro approfondimento settimanale alle ore 20 tutti i venerdì alle ore 20 e qui poi trovate le varie repliche per seguire le notizie di Valle Foglia e di Pian del Bruscolo ho detto davvero tutto mi raccomando seguite la nostra diretta di questa sera una diretta divertente veramente appassionante anche per chi solitamente magari non segue il basket molto coinvolgente quindi alle 21.20 tutti collegati su Rossini TV con Insieme a Canestro buona serata Grazie Grazie Grazie